De Caro Home Street Food, panino con polpette gourmet, porchetta, pollo allo spiedo e altre specialità, tutte cotte al forno. Per De Caro comincia la nuova avventura, vi aspetta in via Carlo del Balzo ad Avellino. All'ultimo secondo Marco Perrotta al 93esimo regala una gioia infinita ai tifosi bianco-verdi. E' l'Avellino che conquista tre punti fondamentali sul Carpi, una vittoria sofferta arrivata in extremis dopo che Ardemani al terzo aveva fallito un calcio di rigore. Ma gli erpini con cattiveria ed ardore agonistico non hanno mollato mai, arrivando fino all'epilogo finale che rende ancora più gioioso il prezioso successo. Sette punti in tre gare nell'ultima settimana, un bottino fondamentale per l'ottenimento dell'obiettivo salvezza, specie dopo i risultati odierni e restando sempre in attesa della sentenza sul calcio scommesse che arriverà la prossima settimana. Ma l'Avellino con questa vittoria si è cautelata da possibili ostacoli e soprattutto ha ritrovato quell'energia fondamentale nel campionato cadetto, che ora prevederà la trasferta a Pisa nel giorno di Pasquetta, una gara contro i Toscani che potrebbe realmente sancire una salvezza virtuale per i bianco-verdi. Piedi però ben saldi a terra ora per l'Avellino e per quella sapiente guida tecnica che porta il nome di Walter Novellino. Proprio il tecnico commenta così il prezioso successo insieme al match winner per Rotta. Una vittoria importante per noi, una vittoria del credere, nella fiducia in questi ragazzi che mi stanno dando tutto. Io credo che è la vittoria di chi ha creduto di più. Dobbiamo fare i 100 metri sulla montagna e ci sono degli ostacoli e superiamo anche questi ostacoli. E io mi sento ancora di dare ancora di più, ancora molto di più. Sono tornato ragazzino. Il mister anche durante l'allenamento ci sprona proprio nei momenti di fatica a non mollare mai e penso che i risultati si sono visti. Io caratteramente sono uno che anche nel momento in cui non giocavano ha mai smesso di mollare e quindi è proprio nella mia indole lottare fino alla fine. Ci sono ancora sette partite importanti per noi e il calcio scommesso è solo un motivo per spronarci a fare bene questo finale di campionato. Perché non dobbiamo mollare e non abbiamo fatto nulla neanche con questa vittoria. Forza Lufi!